Ciao a tutti ragazzi per averlo in questo nuovo video con vostro GAMABY GAMABY Allora, oggi cercheremo a Dark Rebel, la trama molto velocemente parla di un uomo che si chiama Victor che da molto tempo sogna, fa sempre lo stesso sogno Un giorno praticamente svegliandosi scopre che sua moglie è sparita e il mondo che l'ha sempre conosciuto è cambiato Vabbè, questo è ciò che dice la trama di questa demo di questo gioco horror che noi andremo a provare e a scoprire insieme a Boole Quindi non ci restare a giocare, buon direttimento, ma lì è! Allora, eccoci qui Selezioniamo la modalità di gioco Uso il map, penso siano delle mappe personalizzate, non lo so E questo è il livello di difficoltà che metteremo Expert Si, due volte Magari un po' più normale Andiamo a girare Oddio No, l'ombra che si proietta in modo naturale Ah, più grossa di io o più alti no? Niente Hai due Chi? No? Si, mi ha fatto il mio bambino, ma non posso ricordare che non lo so non lo so Ah, dice che la nota sembra che l'abbia scritta da lui Ma non si fa guardare di averla scritta Perché non so a chi l'abbia messa qui E dice che devo usare la maniera di uscire Ah, quella Oh, what the fuck Che c'è? Sono affogato miseramente Va bene, è stato un po' divertente È rimasto un po' bugato Con Ede, clicca E Si, va cliccato E proviamoci Non so perché sono finito di comunicare Però non andati va, perché credi Ah, ok, passo, perfetto Dice E pure la macchina non so dove andare C'è una luce, qualcosa Non lo so Clicca E Ciccato, ma si bugga la schermata Ciccato, ma si bugga la schermata Crediamo si fia una demo Quindi siamo gentili e faremo Invece C'è una specie di luce o qualcosa Forse li monti sulla scala Forse li monti sulla scala Forse li devo montare sulla televisione C'è un po' che c'è deve essere Forse c'è un altro da dentro Posso cambiare il canale? Il problema è uno Sì, guarda lì Allora, le nostre tv seem to be broken Avete un'idea di qualsiasi Mi vuole guidare Sì, basta Ok Giustamente dice Da me che tv Non so che faccia funzionare senza elettricità Meglio non toccarla Ma, e' un po' che andava scosso Poi andava scosso Poi andava a tritur di va No, andava a tritur di va No, andava a tritur di va No, andava a tritur di va A tritur di va Sì, sembra che ti colte un'acqua E' un po' di piacere qualcosa Bene There is a human figure beyond the grade E can make the... Allora, dice che c'è una figura dietro la grata Ma... non sa chi sia E... non si muove del tutto Quindi... Ma io sono molto strassi No, amico No, amico Mi apri? No, non importa E quindi sono due anche a trascondere Un po' Non dico niente, è benissimo Ah, ci paremmo Allora, da cinquanta minuti siamo qui tipo Finalmente Oh beh, una scala Un'ora Ci accorgiamo che abbiamo una scala sopra di noi E che possiamo raggiungere tranquillamente così Come stare qui Cazzo, non si è fatto a vedere, non si sa Andrò a portarla a salire adesso Su sta roba Perfetto, la visione è completa Oddio Ah, ma che posso stare sotto Ok Ok, si vede a malapena quello che ho fatto Un'altra scala Il gioco delle scale Vado e dove? Sono arrivati Al muro Oh, vedi O di voce come si vede Queste si vede Queste si vede Queste si vede un tombino gigante Sun sound front Chi so Open door Open door Tutto io uso Di sciopre Devo chissarvi Di sciopre delle tigioni Non ti apre nessuno Exit Perché dovevi aprire queste cose quando c'è scritto Exit Qui? E' giustamente chiuso E che cazzo scaffa Ora vediamo su certe scale che portano Gli altri mondi C'è un puzzle game Ah, the door is spread low Can I need the heat open it? Ok C'è bisogno di una cazzo di porta Di chiave Non è andata che fa la chiave Tutto giuro Tutto giuro Tutto giuro Ci si sobra qualche cosa Ma che c'è bisogna Cioè lo scriver già quella di cui andare indietro Perché vedere se ce le da allo meno Oh, la cosa da rimbordo, vediamo Come ho detto, se è piegato lo minore Se è piegato? Come vedi? Ah no, l'ho scritto da televisore Spera che mi è stato appucciato così Ma questo è il vostro 18, però è vicino però, ha visto è successo qualcosa? Aspetta l'avevo detto Pomino, pomino, non c'è manichino Non c'è la vaccina, non scaccellano con il cancellino della lavagna Slender Peach Però colorato Se mi potesse mi vengo, aspetta io salvo perché Vi vorrei Allora, ciao Non c'è una chiara, guarda in mano, guarda la carina La carina me la do due Ok Come se, la prendo e non mi fai niente Grazie Ciao, ci vediamo Passi per l'aiuto Non posso dire lo sguardo Infatti è questo che mi trovo Ma muoviti a salire Dai cazzo Guarda qui, guarda qui, guarda qui Guarda qui, guarda qui Guarda qui, guarda qui Guarda qui Guarda qui Guarda qui Siamo arrivando Sì, sì, dai Guarda, apri la porta Oh, cosa cazzo? Dicela riuscola in grado Cazzo Ma che cazzo? Cazzo Cazzo Dicela Cazzo Mi fa muovere Tornere Amico Ma che cazzo Cazzo Mi hai cazzo Cazzo È esce facciamo tanto per percorrere vinci puoi ridirlo aspetta, questo ti ho fatto di fuori ma lo mando, ti chiedi ma stavo dormendo, stavo sognando vedendo di vedere un po' d'alto intanto spingiamo la televisione su e tu all'orque nuovo haichan haichon mangia un pezzo di dei pezzi 3-4 verdici è un manga, è forse vengosi qui è la sua nuova un po' di gravano ahahah ahahah attento special allora vediamo un po' di ketchup un posto di 6 giorni acqua si sta sprendendo eh sta all'incuocco ho avuto questo sogno che così tanto non ricordo quando inizio forse era un disaffumato così ma come mi ha fatto questa non mi ha fatto questa non mi ha fatto questa ma purtroppo ho fatto la vita è come se avessi perso il tanto il senso del tempo questo mal di testa mi sta uccidendo ok ho cominciato a pensare che lei andrebbe non mi dovrebbe andare niente di magico dici ok allora andiamo via dai ok questo puoi ah a casa non si limita per stanza non si teatro per stanza niente di specie ma perchè dice niente speciale l'alatrice è molto speciale per me che sta affanno si interrabbia quando apri le porte vedi il bagno si decidisce tutto cosa sta questo qui è il patitas mi loco col patitas oh mio dio posso vedermi ruta tutto tutto davvero fuck che c'è eh io non sto ancora dormendo come sempre e invece di si vede vuol dire il mio studio però dovrebbe andare a dormire e il mio letto sarà il divano il divano che ho alletiato giustamente io devo dormire sul divano non so che niente di speciale ecco devo parlare lì mi metto sul letto di molto dio sì e ti rompevo e ti davo anche i pugni e andai che non ti vanno uguale a lui quel cazzo ma è un bellissimo tavolo ma è un bellissimo tavolo ma è un bellissimo tavolo mi metterò quindi dovrebbe ti vorrei bene per farlo no bisogna andare da la risa però adesso si apete 14 quindi mi sa che no no è dormito dormito forse oh vedi oh vedi lisa vieni vedi una chiacchiera eccola mi sa se da quel momento hai visto eh come stava in realtà faccia lisa stai ripensando no ho bisogno di parlare con oh vedi senza faccia no stai sognando di nuovo no impossibile sembra così vero non è un sogno qui sono vestiti di risa la sua figura i suoi capelli la sua faccia è tutto come dovrebbe essere non ci posso credere perché sta così? FONI non che di solito deve essere chiamata sempre FONI ecco NIL DISRELLA come io volevo dire oh è vero con lisa lisa chiama come faccio pronto? come risponde la tema dico pezzo bene picappi dei FONI come ti faccio a picappare dei FONI perché su FONI che era io? ah ma questo non mi risponde ok forse la buzza via a lato a sinistra no a destra a sinistra a sinistra a sinistra ecco mi sono preso ah ah l'ho lasciato qui vedete se c'è un messaggio inoletto ma io ci vuole venti ma noi ho fatto cosa ma lì fuori certai eeeh recritto il porto 25 il messaggio è da Jane Lisa's best friend ok è dell'amica l'hai stato mandato stanotte spero che sia con lei adesso sony erickson c'è un altro show jenna lives in our district i should try to look for l'esatto il place ok bisogna andare via beh bisogna andare a trovarla nooo è finita la demo vabbè speriamo che sti tizi portino avanti questo gioco poi se se riusciranno a a finirlo si magari si fa la versione complessa noi ci salutiamo lascia usini come al solito a misis si iscrivetevi commentate e mi piace anche anche questo scrivete è tutto ci siamo ciao 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 merda merda no ha fatto buonissimo sì ma perché